Buongiorno, sono Antonio Becherucci, presidente di Exibo, ci troviamo in questo momento alle officine Farneto di Roma. È la sesta tappa di un roadshow che Exibo ha voluto fare focalizzando l'attenzione al mondo corporate per raccontare a dei partner che avevano intenzione di venire a sentire che cosa abbiamo da offrire proprio per gli ambienti corporate in termini di un percorso che si dipana da un tema centrale che è quello dei poteri del suono per poi passare ai trattamenti di acustica degli ambienti interessati negli ambienti corporate, la diffusione audio negli stessi ambienti, la microfonia che noi usiamo dire intelligente perché sono nuovi modi per non cercare più il microfono ma per far sì che il microfono ci trovi e poi la videoproiezione intelligente a cui attacchiamo anche la parte di controllo audio-video in modo tale da garantire un'estrema fruibilità e la possibilità di gestire qualsiasi evento sia in un ambiente specifico che in molti site per poi infine toccare gli argomenti dell'audio on the go per il mobile worker come uno strumento che gli permetta di operare sia all'interno delle aziende che all'esterno durante il viaggio e quant'altro. È stato un road show crediamo interessante per le persone che sono venute ad ascoltare in quanto dovrebbe aver permesso la diffusione di informazioni di quello che è possibile fare e una specie di lotta a quella che noi chiamiamo la banalizzazione di un mercato che cerca di raccontare cose in maniera estremamente superficiale proprio per non poter distinguere cosa da cosa altro. È un po' questo il tema che abbiamo voluto trattare.